Ben tornati su CiproTV, oggi è il primo marzo 2019, inizia un nuovo mese, siamo in pieni open e vediamo per oggi due possibilità, la prima quella di eseguire il 19.2 che è stato pubblicato questa notte, oppure 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, thruster e chest to bar pull up. Ad ogni round dovete fare però 30 double unders. A voi la scelta, ci vediamo lunedì per un altro body insieme e un'altra settimana insieme su CiproTV. Buon weekend!